Centro storico e moda Vestiamo sia uomo che donna con i migliori marchi come Calvin Klein, Guess, Tommy Hilfiger, Danny Days, Alan Wilson, Jem e tanti altri E per il periodo natalizio un regalo per tutti i nostri clienti sconti dal 50 al 70% Vieni a trovarci, siamo in Viale Conte Testa Secca 11 a Caltanissette Profumeria Greco, dal 1934, cosmetica, bigiotteria, pelletteria e articoli da regalo Esclusivisti Chanel, Dior e Shiseido Profumeria Greco, in corso Vittorio Emanuele 68-72 Perché l'esperienza non si inventa Grutta Dauri a Michele, in corso Vittorio Emanuele 62-64 a Caltanissetta Abbigliamento uomo con i più importanti brand del momento e con la qualità e la professionalità di sempre, al giusto prezzo E per il periodo natalizio vi aspetta con una promozione veramente eccezionale Grutta Dauri a Michele, a Caltanissetta, nella zona pedonale Tradizioni rinnovate www.gruttadauriamichele.it Italica in tour, viaggi e vacanze Organizziamo alla perfezione ogni vostro viaggio, lungo o breve che sia Per il periodo natalizio, se prenotate il vostro viaggio di nozze riceverete sconti e benefit inimmaginabili soprattutto se scegliete di andare in crociera E con noi, gite anche giornaliere per Capodanno ed Epifania e visite ai borghi più belli della Sicilia Non restare chiuso in casa Italica in tour, viaggi e vacanze Via Crispi 11 a Caltanissetta In un perfetto equilibrio tra moda e vestibilità Oltre veste le donne dalla 40 alla 52 e con la Fidelity Card Oltre accumuli punti per gli acquisti effettuati e li converti in sconti sempre più alti Vieni a trovarci in Corso Vittorio Emanuele 98 a ritirare gratuitamente la tua card Il nostro staff ti aspetta Motivi Eleganza made in Italy per una donna semplice elegante e autentica E con la nostra card sconti del 10% su tutta la merce Motivi Corso Vittorio Emanuele 110-112 a Caltanissetta Da Ottica Cigna per tutte le feste natalizie trovi sconti fino al 50% su tutte le montature da vista e da sole Inoltre se acquisti un occhiale completo con lenti progressive e aggiungi solo 10 euro in più ti regaliamo o regaliamo a chi vuoi tu un occhiale completo con lenti monofocali da vista o da sole Troverai le migliori marche come Jenny, Laura Biagiotti, Biblos, Snob Italia, Luke, Moschino, Persol, Raiban e tanto ancora Ottica Cigna ti riserverà tante sorprese perché da noi è sempre Natale Siamo a Caltanissetta in Viale Conte Testa Secca 6A Centro Storico 016 Il corredino per il tuo bimbo lo trovi qui con una vasta scelta e con la sicurezza della qualità e del giusto prezzo anche abiti per cerimonia e battesimo e se aggiungi a tutto questo sconti dal 30 al 50% allora non hai più scuse Ti aspettiamo Centro Storico 016 Viale Conte Testa Secca 3 a Caltanissetta Sweet Home Nuova apertura a Caltanissetta in via Kennedy 41 Presso il nostro nuovo punto vendita troverete uno dei più vasti assortimenti di biancheria per la casa cotone, lino, seta, lemswall, cashmere, alpaca per vestire la tua casa in tutti gli stili dal più classico al più moderno Vieni a scoprire Sweet Home nuova apertura a Caltanissetta in via Kennedy 41 Dal 2001 il Teatrino ti delizia con le sue specialità Puoi scegliere tra pizzeria o ristorante tra una buonissima pizza cotta in forno a legna o un piatto a base di carne o pesce E le nostre pizze puoi gustarle anche a casa con la consegna a domicilio gratuita Il Teatrino, ristorante e pizzeria Via Berengario Gaetani 23 a Caltanissetta Telefono 0934 25 080 Chiusi il lunedì